Il complesso residenziale delle Salzare ad Ardea va abbattuto, firmato Consiglio di Stato. I giudici di Palazzo Spada hanno quindi confermato la decisione del Tar e dopo aver eseguito un'istruttoria hanno rigettato l'appello di una donna, proprietaria del 25% delle unità immobiliari. Si mette così fine a una disputa che va avanti da oltre 30 anni. Tutto ebbe inizio nel 1985, quando un'altra signora ottenne la concessione edilizia per realizzare una lottizzazione sui suoi terreni. La donna cedette poi la proprietà alla società Lido delle Salzare, ottenendo in permuta il 25% delle abitazioni edificate. Vennero costruiti 250 appartamenti e un centro commerciale, ma nel 1997 arrivò il primo dietrofront del comune che annullò la concessione edilizia e ordinò la demolizione dell'intero complesso, disponendo l'acquisizione dell'area a patrimonio comunale. Nel 2002 entrò in scena chi aveva ereditato i beni e fece ricorso al Tar. Il tribunale amministrativo però diede ragione al comune e ora anche il Consiglio di Stato si è schierato dalla parte di Via Garibaldi.